Affittavano appartamenti come se fossero dei residence con tanto di sito internet ma erano completamente sconosciuti al fisco. Si è appena conclusa un'indagine della Guardia di Finanza di Verbagna per il contrasto al turismo extralberghiero abusivo. Le fiamme gialle hanno scoperto l'esistenza di sei imprese occulte che hanno accolto almeno 1300 turisti per un volume d'affari di oltre 730.000 euro. Imprese che non avevano nemmeno la partita IVA, non pagavano alcune imposte e non trasmettevano le comunicazioni sugli ospiti presenti alla Questura per la pubblica sicurezza. Tre si trovano a Stresa, una a Giniese, una a Verbagna e una a Premia per un totale di 24 appartamenti e 4 camere doppie. Gli incassi ricostruiti dai finanzieri ammontano a 732.000 euro per un'evasione di 206.000 euro, ovvero 63.000 euro di IVA, 18.000 di IRAP e 124.000 euro di IRPEF.